video video mi sono caduti gli occhiali da sole e si sono rotti come si può ben vedere come si può ben vedere wow si è staccato il vetro cioè guarda cioè quando sai proprio adesso manca solo che mi fatti staccare anche la telecamera è storta è così ci sono problemi che si aggiungono soprattutto quando cala la fase lunare quando la luna luna come dico io discendente a se stessa quando quando ma guarda questo vetro come si è staccato dagli occhiali cioè proprio questo andava qui no così no andava così no così circa si è staccato nel tutto adesso è tutto oggi ma non mi importa anche se voglio chiaro costato abbastanza uno direbbe adesso cosa faccio vado a comprare un altro paio d'occhiali anche più belli sì ma però c'è proprio guarda non ho parole a dire come sono caduti questi occhiali incredibile ok chiudiamo il video e pensiamo invece che ci sono 795 milibar in discesa se anche scala mercurio discesa e viene la neve poco niente 30 centimetri però sai freddo e 8 gradi caduti gli occhiali da sole